Salve a tutti, siamo in diretta dal Basket Sotto le Stelle, direttamente come vedete dal campino di allenamento, campino di riscaldamento. Siamo con Giorgio Nieri, componente degli Starlight, i back-to-back champ, hanno vinto due volte consecutive il Basket Sotto le Stelle. Giorgio, cosa si aspetta quest'anno? Innanzitutto di divertirci tutti insieme, poi di vincere un'altra volta. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre, sarei così sicuri? No, quest'anno no, perché vedo un Marco Passaglia un pochino spento, tutto acciaccato, mi fa paura. Questa ora lavora Luca Passaglia, lavora la mattina e la sera, quindi non ce l'abbiamo più. Ecco appunto, volevo chiedere l'NVP dell'anno scorso, Luca Passaglia, come lo vedi? Perché sei vicino a lui. L'altro anno ce l'ho sempre qui, è una ferita sempre aperta, però no, l'NVP spero di vederlo bene. Quest'anno spero di vincerlo te? Speriamo. Beh, ringraziamo Giorgio e ci vediamo sui campi.